Mascherina a scuola. Il personale scolastico è tenuto ad indossarla durante la permanenza nell'edificio. I docenti possono toglierla in classe. Se gli studenti si avvicinano o durante l'intervallo, devono rimetterla. In seguito alla nuova decisione del Comitato Tecnico Scientifico, invece, gli alunni, a patto che si rispetti il metro statico, possono non indossare la mascherina durante la lezione. Le mascherine sono obbligatorie dai sei anni in su per tutti, all'arrivo, all'uscita e per gli spostamenti dentro la scuola. Gli studenti possono indossare anche mascherine di stoffa, banchi singoli o innovativi, ingressi scaglionati quando inizieranno le lezioni. Si tratta di una decisione che prenderanno le singole scuole in autonomia, ma è una scelta consigliata dagli esperti. Per i trasporti è arrivato l'ok alle linee guida. A bordo dei mezzi è consentito una capienza fino all'80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Ovviamente va tenuta la mascherina a bordo. Con più di 37 gradi e mezzo si sta a casa. Gli studenti e il personale scolastico dovranno misurare la propria temperatura corporea. I genitori informano anche il pediatra o il medico curante che, in caso di sospetto a Covid-19, richiede tempestivamente il test. Al momento il CTS non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso delle scuole. Da fine agosto è partita la campagna di somministrazione volontaria dei test sierologici per il personale scolastico. Gli insegnanti sono consapevoli che le lezioni potranno avvalersi anche di moduli da svolgere online. Ecco perché sono state emanate delle linee guida specifiche sulla didattica digitale integrata.